Escono i carpacci di pesce a spada, carpacci di pesce a spada con l'affumicato di fianco. Quando arriva la gente non gli diamo niente, nessun aperitivo, niente di niente. Ora, come, ho tenenza, ho tira di acqua naturale, in esatto su ogni tavolo. Le parole di da noi glielo chiediamo naturalmente. Dentro il frigo c'è del Muller, Turgal, bianco, sempre della la vista. Serviamo un bicchiere, arriviamo qua, a ogni persona del tavolo. Non dobbiamo chiedere niente a nessuno, non ci interessa niente di nessuno. Tutti mangiano qua. Quindi, Muller, Turgal, tutti quanti, pane, l'acqua naturale, gara, comunque entri. Anche il pane, già, anche il pane, tutto quanto. Se finisce andiamo con un piattino alla francese e gli riempiamo di nuovo il cistello. Ok? Si serve, non si lascia niente al tavolo. Quando finiscono si porta via, va a posare, si sente da questa e man mano si cambia le posate. Dopo l'altro va a giocare, facciamo finta di essere camerieri. Finito il primo giro, ma... Il vino bianco, chiediamo, possiamo portarvi via, se si può portarvi via, portiamo via i richiedi. Abbiamo il secondo giro già sul tavolo. Naturalmente, sparichiamo tutto. Portiamo i raggioli, scampi e tantupo. Serviamo il vino nero. Il vino nero ritratto. Il secondo vino, un vino nero ritratto. Il secondo vino, ma con il primo piatto. Si serve un bianco, si serve un bianco, altri quattro bianco, si lasciano un tavolo. Si informano alla gente, se lo chiedono, che comunque, in mezzo ci sono diversi bianco, sono quattro, cinque bianco. Dopo, per chi servirà la sala di là, quindi, qualcuno vi portate via un po' di bottiglie.